Ciao a tutti ragazzi, in questo video vi presenterò la prima uscita con Topolino che è Toy Story 3 La Grande Fuga Qua il prezzo... andiamo... Euro e 90 Ok, questo è il DVD Ok Dunque, scusate Fu... Un momento... Ecco... Ecco... Ci siamo... Ok... Numero 1, che è Toy Story 3 La Grande Fuga Pagato a 11,90 Ok... Questo è il film Qua dietro contenuti speciali Ora lo apro Devo dire Molto bello Passiamo al Topolino che qui ci sta tutto Omaggio a Fellini Ok Adesso qua dietro pubblicità sugli amici del Molino Allora, adesso andremo ad aprire per bene Adesso andremo ad esaminarlo Ok... Qua c'è scritto omaggio a Fellini Ma è qua... Allora... In più il regalo... Con abbonamento is by Gadget Ok... Qua tutte cose... Fellini... Vabbè... Apriamo... Passiamo al film Ok... Adesso lo apriamo Ora lo apriamo insieme Ecco qua... Allora... Qua c'è il DVD scritto Toy Story 3 Qua c'è che move Poi sei pronto a giocare con noi? Ok... Qua c'è sul magazine Poi pupazzi di Toy Story 3 Poi le scarpe... Poi qua... Dunque... Poi qua c'è il Buzz Lightyear Toy Story Collection Qualcuno sa dove l'ha visto Perché me lo dovevo ricomprare Che... Lo cerco... Assolutamente... Ok... Poi qua... Puglio e Jesse Che... Mi voglio comprare Quindi... Pug... Quindi li devo... Trovatemi... Se li avete trovati specialmente a Roma Qua... Degli action figures Molto bello Ebbene... Ci vediamo alla prossima Ciao... Aspetta... Non abbiamo ancora visto il libro Poi qui da una parte... Vabbè... Allora... Qui c'è Federico Fellini Eccolo qua... Allora... Ci vediamo alla prossima